dopo ieri che abbiamo preso pioggia 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 oggi è riuscito il sole siamo carichi andremo al circolo d'oro e vedremo anche le cascate sinceramente non mi ricordo sarà una sorpresa anche per me però è sempre bello vedere il sole dopo giorni di pioggia che si mangia stamattina? eh qua stamattina dobbiamo prendere un po di energie se no la caschetta si va piano tutti molto affamati non ci fa il frango pieno ma dovevi cacare hai cacato? Allora, che cosa stava facendo Antonio Conte? Descrivetecelo perché noi non stiamo capendo. Allora, che cosa stava facendo? 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 Allora, che cosa stava facendo?